Ciao, mi chiamo Luca Bagnarelli, sono al secondo anno di dottorato in scienze chimiche e ho scelto Unicam. Otto anni fa ho scelto chimica perché nel corso degli anni del liceo mi sono sempre più appassionato a questa materia e inoltre perché grazie alla laurea in chimica avrei potuto realizzare una delle mie più grandi passioni che è l'insegnamento. Ho conosciuto Unicam attraverso i miei professori del liceo e successivamente l'ho scelta perché sia loro che altre persone che conoscevo mi hanno sempre parlato di Unicam come una università piccola ma sempre ai primi posti delle classifiche delle università italiane inoltre come un'università seria, attenta allo studente e con un clima familiare. Questo è dato anche dal fatto che nel corso di laurea il numero di studenti presenti sono il numero paragonabile al numero di studenti presenti in una media classe delle scuole superiori e questo fa sì anche che i professori ci conoscano uno ad uno. Tutto quello che vi dico l'ho avuto modo di verificarlo e dividerlo in prima persona e se sceglierete Unicam anche voi potrete farlo. Alla fine della triennale ho deciso di continuare i miei studi magistrali in Unicam anche e soprattutto grazie alla possibilità che Unicam offre di conseguire contemporaneamente due lauree magistrali partecipando al double degree. Il double degree è un Erasmus di sei mesi che io ho fatto a Lisbona al termine dei quali dopo aver fatto tutti gli esami a Lisbona e a Camerino e aver preso la laurea magistrale in Unicam viene rilasciato un secondo titolo magistrale dall'Università di Lisbona ospitante. Attualmente sto facendo il dottorato di ricerca in chimica inorganica basato su un progetto iniziato durante la mia tesi magistrale che prevede la sintesi e l'analisi di nuovi complessi a base metallica utilizzando rame, argento o oro con possibili proprietà e applicazioni catalitiche e biologiche in particolar modo antichimorali. Grazie